Luca Onestini, Soleil e Marco ha lo stesso evento a Firenze Uomini e donne, Luca Onestini rivede Marco e Soleil al Pitti di Firenze. Il mondo è decisamente piccolo. Ne sanno qualcosa Luca Onestini, Soleil Sorghe e Marco Cartasegna che rischiano seriamente di incrociarsi allo stesso evento. I tre personaggi diventati popolari grazie a uomini e donne sono stati infatti invitati a Firenze per presenziare ad alcuni eventi inerenti il Pitti Uomo, l'annuale evento dedicato alla moda maschile. Sia Luca sia Marco che in passato hanno condiviso la poltrona del trono classico sono stati invitati come ospiti ad alcuni eventi che si terranno nel capoluogo toscano. . Mentre l'ex concorrente del grande fratello Vipsi è fatto accompagnare dal fratello Gian Marco, Cartasegna è arrivato in città insieme alla nuova fidanzata Soleil. . A quanto pare al momento non cè stato nessun incontro ma non è escluso che accada nelle prossime ore. . Del resto Firenze non è una città molto grande e partecipando alla stessa rassegna sarà difficile evitare di incontrarsi. . Cosa succederà? Luca e Soleil avranno modo di chiarirsi o preferiranno ignorarsi? Dopo che l'Italo americana ha lasciato l'ex mister Italia in diretta tv e con una lettera, i due non si sono più rivisti. . Al contrario delle aspettative, non cè stato alcun confronto tra gli ex fidanzati. . Soleil ha preferito buttarsi tra le braccia di Marco Cartasegna, mentre Luca si è consolato con la modella cieca Ivana Mrazova, con la quale la natura del legame è ancora avvolta nel mistero. . Luca e Soleil di uomini e donne non si vedono da mesi. . Non sento assolutamente la necessità di cercare la mia ex fidanzata Soleil Sorghe. . . Credo che Soleil abbia aspettato che io entrassi nella casa per lasciarmi avere così massima visibilità ha dichiarato l'ex tronista Eiffino Luca Onestina Verissimo, dopo aver conquistato il secondo posto al Grande Fratello Vip. . A Firenze la situazione cambierà? Si attendono sviluppi. . 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